Sono entrati col furgone a spinta finché hanno spinto dentro tutto, l'inferiate, mal vetrata, c'era di tutto per poter fermare, non si fermano davanti a niente, buttano giù un mezzo muro, robe che viene giù il condominio, non hanno paura di niente questa gente qua. Arrivano, ti rovinano la vita, poi scappano, lasciano il furgone in mezzo ai binari, viene investito... Non ho parole per rubare 15 bici e fare una cosa del genere. Non sono ladri, non ho definizione. Un ladro non si comporta così, questi qua hanno un disprezzo della vita, hanno un disprezzo di tutto, disprezzano le persone perché non si può ridurre così. Roberto Cato, titolare della Crazy Sport, alterna rabbia e sconforto e non potrebbe essere altrimenti di fronte alla devastazione del suo negozio alle porte di Vittorio Veneto. Sono dei pazzi e anche secondo me molto pericolosi, molto pericolosi perché per arrivare a far questo è un casino del genere per rubare 15 biciclette. Io non ho parole, non saprei definire delle persone così, non sono ladri questi, sono molto di più. Cato è reduce da un'altra spaccata poco meno di un mese fa. La vetrina era stata appena rinnovata, anche in quel caso non era stato usato nessuno scrupolo. L'ultima volta mi ha fatto 60 mila euro di bici e altri 15 mila euro di danni circa. Copertura assicurativa stiamo ancora trattando, teoricamente sono 60 mila euro, quindi 30 mila euro andati. Dopo un mese arrivano di nuovo, fortunatamente abbiamo rinnovato un'assicurazione solo con una copertura di 20 mila euro e abbiamo 37 mila euro di bici e altri 15 mila euro di danni ulteriori, quindi non so se vale la pena lavorare, non so. Andarri avanti così, certo la bandiera bianca non si lavora più fa. E per presidiare il suo negozio ora Roberto è costretto a dormire pure in camper. Dormo qua finché non è finito tutto il lavoro, quindi meno una settimana fra mettere in sicurezza e tutto, dormo in camper qui. Nessun alternativo? No, nessun alternativo.